Va bene, allora ragazzi è arrivato il momento, il pubblico ha deciso che tra Giuseppe e Perla il quinto finalista o la quinta finalista di questa edizione di GF è... Sono arrivato fin qua che è il teore, più che soddisfatto. C'è Alex, lo sai non vuoi più che esci, ci vorrei che... Troppe cose... ... 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